ormai avete capito che non sono affidabile rispetto agli orari alla mattina poi sempre mille cose stamattina cose burocratiche personali e mi hanno portato a questo clamoroso ritardo sulla diretta vi chiedo scusa oggi vi voglio parlare di una buona notizia apre in calabria ad amendolara un hub un punto nodale di ricerca di ricerca sul mare amendolara è diciamo quella parte d'italia che impariamo nell'elementare a chiamare golfo di taranto ma amendolara in calabria in provincia di cosenza proprio al confine quel posto tra calabria basilicata e puglia dove si incontrano uno dei posti che sa di storia perché si dice amendolara in quel tratto è un tratto in cui il mare è molto basso diciamo una secca in cui si rincorrono leggende o storie vere o chi lo sa ecco si dice che siano affondate delle navi prima di cristo quindi con un sacco di di resti archeologici che raccontano di storie che si rincorrono si dice che ulisse sia approdato lì chi lo sa alla fine le nostre coste sono fantastiche e raccontano la storia di questa nostra penisola allungata nel mediterraneo cula della civilità dell'uomo la cosa interessante è che finalmente abbiamo un centro e non poteva in fondo che essere in calabria in quanto quel pezzo di italia che abbraccia sostanzialmente due mari e mezzo il tirreno lo ionio ma in fondo poco distante dall'adriatico è un posto che già stato oggetto di molte ricerche biologiche pensato lo stretto di messina che uno dei più analizzati la calabria il posto in cui sono ritrovati i bronzi di riace e quindi per questo mari diversi correnti diverse è una zona ideale per capire come sta il nostro mare capire le specie di pesci che vi vivono se stanno in buona salute se scompaiono è il posto ideale per capire la biologia marina la vita e chi non poteva dirigerlo se non il grande silvio greco uno dei biologi marini più più importanti e preparati d'europa credo sia l'italiano o uno degli italiani che per esempio ha avuto più ha fatto più spedizioni in antartide ci porta molti elementi per studiare cambiamento del clima ma soprattutto un grande esperto appunto di biologia marina di pesci oltre ad essere un grande cuoco quindi ogni tanto vi invito a seguirlo perché chissà magari abbiamo la fortuna di andare a mangiare qualche volta quando lui cucina il pesce questa questa notizia ripeto una buona notizia io spero che questi centri ricerca rimangano in italia che i ricercatori rimangano in italia perché abbiamo una grande bisogno di eccellenze un grande bisogno di che le eccellenze che i nostri saperi la nostra creatività rimanga in italia rimanga nei centri di ricerca perché troppo spesso le eccellenze prendono e vanno all'estero pensate al premio nobel per la matematica celebrato non più tardi dell'altro ieri e quindi grazie silvio greco grazie alla calabria grazie a questo nuovo centro di ricerca spero di risentirvi presto a domani per la nv news del weekend ciao